Il partito di Vendola ad Aversa che posizioni ha sul piano programmatico? Innanzitutto stiamo venendo fuori da un incontro con Di Pietro, la coalizione si è concretizzata sull'intesa di Vasto, la foto di qualche mese fa. E noi sabato e domenica avremo dei gazebo insieme con la coalizione dove presenteremo il nostro piano programmatico andando chiaramente a declinare quelli che sono i tre concetti fondamentali del nostro partito, sinistra, ecologia e libertà. Libertà, parto dal primo, l'acqua pubblica e l'acqua libera. Sinistra in effetti soprattutto, una sinistra responsabile che in effetti ha voglia, non di tornare, ha voglia di andare al comune di Aversa e quindi di mettere su quelle che sono le condizioni per governare questa cittadina. È sotto gli occhi di tutti, basta fare un giro per il centro cittadino e guardare i dieci anni di un proprio sfascelo dell'amministrazione del centro-destra. Sul piano dell'ecologia, presumo, sarete particolarmente impegnati. L'anima ecologica che portiamo all'interno del nostro partito è chiaramente quella che ci fa esprimere maggiormente i concetti. Risparmio energetico, il risparmio energetico è una solarizzazione degli edifici pubblici e privati, dobbiamo incentivare queste. Io da un punto di vista tecnico non vedo in effetti perché in una cittadina che ha, così come tutto il sud, ha 200 giorni di sole l'anno, in effetti non possiamo assolutamente programmare, pianificare e realizzare immediatamente la solarizzazione degli edifici, prima pubblici e poi quelli privati. Il risparmio energetico, c'è una tecnologia a LED, impianti di illuminazione cittadina a LED, ancora tecnologia, il wifi pubblico. Non è possibile in effetti che ancora oggi ci sia un wifi a pagamento. In tutto, basta spostarsi di 80 chilometri, salire un pochino nel Lazio e in Emilia Romagna e si riscontra tranquillamente questa, è palpabile. Basta con uno smartphone, un pc, avere bisogno di mandare un'email, il wifi pubblico dà la possibilità addirittura ai cittadini di comunicare attraverso internet e non faccio nomi per dei prodotti. E poi chiaramente questo territorio è un territorio che è stato ferito tantissime volte dall'inquinamento del sottosuolo, dal problema dell'immondizia. Io in effetti mi ritrovo in questa situazione perché io non ho fatto, come dice qualcuno, politica con i pantaloncini corti. Il partito con i pantaloncini è già un pochino più lunghi. Perché? A causa dell'immondizia, perché in effetti io sono diventato un cittadino attivo prima di diventare coordinatore di questo circolo. Cittadino attivo significa in effetti dare un contributo a 360 gradi, disponibilità, impegno e mettere anche la sua professionalità al servizio dei cittadini. È questo che vuole. Selle in effetti sta orientandosi a diventare un partito di governo.